Cinque mesi dopo, la Samb torna a vincere in trasferta l'ultimo colpo a maggio nella semifinale play-off di Avezzano. I Rosso-Blu sbancano Castelfidardo già nel primo tempo, 3-0, quarto pieno centro in stagione, soprattutto il sorpasso al Chieti e la vetta della classifica in coabitazione con la Forse Empronese. Allo stadio Mancini, Palladini sconta il secondo dei quattro turni di stop rimediati a Fossombrone. In panchina resta Mancinelli, un solo cambio rispetto al 2-1 sul Roma City dentro Battista, di nuovo titolare a distanza di un mese per Baldassi colpito in settimana da un attacco influenzale. Nel Castelfidardo in serie utile da due giornate, 4-3, 1-2 e la sorpresa Paponi in avanti. La Samb parte spavalda ma il primo squillo è bianco-verde con il palo interno colpito da Cotugno. La risposta rosso-blu, Battista raccoglie un lancio lungo, supera le zai in uscita, poi rimette in mezzo ma la difesa del Castelfidardo libera. Al diciassettesimo Keriota per Leonardo, l'under rosso-blu perde, l'attimo e spreca, quindi la Samb pareggia il conto dei legni con Guadalupi. Minuto 23 il ricamo di Keriota su calcio piazzato per lo 0-1. Terzo centro in stagione per l'albanese, il secondo consecutivo. Il Castelfidardo potrebbe pareggiare subito, Orsini devia su Paponi lanciato in area e sulla linea in acrobazia salva Pezzola. Segue il tentativo di Fabri. Riecco la Samb, angolo di Guadalupi e testa di Gennari che fa le prove generali. Al quarantunesimo Leonardo si inventa un gol d'applausi anche per il Cobra, terzo centro in campionato e secondo di fila. Prima del riposo corner rosso-blu e deviazione vincente di Gennari alla prima gioia stagionale, 3-0. Samb è partita chiusa. Nella ripresa Giulio Dori inserisce Braconi per Gambini. Zini al posto di Paolini, toccato duro è la risposta di Mancinelli. Ritmi più blandi, la Samb passa al 4-3-3 con Ture in luogo di Leonardo. Di lì a poco in campo pure Lulli per Guadalupi con il neo entrato che firma subito un assist delizioso in favore di Keriota, secondo legno rosso-blu. Subito dopo Euseppe asciupare il poker sull'uscita di Elezai. Ancora Cambi, la partita scivola via nel finale, l'intervento di Orsini che tiene chiusa la porta per la quarta volta in stagione. Basta così per la Samb vittoria e Primato.